Chi pensa a Scozia pensa ai castelli. Uno dei castelli che appare maggiormente su cartoline o immagini promozionali è il Kilion Castle. La sua magnifica posizione sulle sponde del Loc O, circondato dalle montagne e dall'alta cima del Ben Cruan, lo ha fatto diventare uno dei castelli più fotografati dell'intera Scozia. Grazie. 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 Grazie.